bene benvenuti a una nuova lezione di italiano per tutti come vedete dal titolo in questa lezione ritorniamo a interpretare quindi a proporvi un dialogo fra due persone quindi si impara l'italiano ascoltando e seguendo il dialogo di queste due persone che o più persone ovviamente che si trovano in una situazione particolare abbiamo visto tanti esempi in questo caso vediamo l'esempio della persona dell'individuo che va dal dottore e chiede informazioni riguardo alla sua salute e alcuni problemi che può avere problemi fisici che può avere quindi possono essere malanni di stagione possono essere influenze possono essere febbri e chiede al dottore dei consigli per ovviamente guarire o per migliorare la propria condizione di salute allora partiamo subito con la lezione anche in questo caso ho chiamato appunto un nostro un nostro amico che ci viene ad aiutare e iniziamo subito la lezione e vedrete che dalla prima slide partiranno subito le il dialogo seguite mi raccomando attentamente il dialogo se avete dei problemi poi mi farete le domande sul sul canale e sotto al video allora vieni avvicinati pure così facciamo insieme tutto bene ecco allora perfetto io faccio il paziente e tu fai il dottore quindi pronti via buongiorno dottore buongiorno a lei mi dica che problema è da due giorni che non sto bene ho mal di pancia che cosa si sente esattamente sento delle fitte allo stomaco e un forte bruciore ha mangiato qualcosa di insolito che potrebbe averle fatto male no non ho mangiato niente di diverso dal solito anche dei crampi all'intestino no veramente no va bene si accomodi sul lettino e se le tocco qui le fa male eh sì e qui no lì non sento niente dunque lei ha i sintomi di una gastrite molte volte le cause sono di natura nervosa ansia stress e agitazione le è successo qualcosa ultimamente beh sì in effetti sì abbiamo delle scadenze importanti sul lavoro e io temo di non riuscire a occuparmi di tutto mangio spesso di corsa davanti al pc allora di certo questa è la causa del suo malessere le prescrivo queste pastiglie da prendere due volte al giorno lontano dai pasti per cinque giorni mi può dare la sua tessera sanitaria certo eccola qua ecco la ricetta e mi raccomando si ricordi di mangiare cibi leggeri e non grassi e soprattutto cerchi di mangiare con calma va bene dottore lo farò a proposito mi dica da quanto tempo non fa un esame del sangue almeno cinque o sei anni dottore sa non amo molto gli aghi e le siringhe beh allora è il caso di fare un esame del sangue ecco le faccio la prescrizione stia tranquillo non sentirà alcun male avrei anche un'altra cosa da chiederle e sì mi dica pure domenica ho preso un colpo al ginocchio adesso è gonfiato e mi fa male vediamo e sì c'è un po di infiammazione niente di grave ma va curata in questo periodo è meglio che non prenda farmaci per bocca vista la sua gastrite quindi le prescrive una pomata antinfiammatoria nel giro di una settimana l'infiammazione il dolore dovrebbero passare perfetto dottore la ringrazio molto ora vado subito in farmacia e mi dica come sta sua moglie ha ancora quella brutta tosse purtroppo sì anche se continua a prendere lo sciroppo ogni tanto ha anche qualche linea di febbre allora sarà meglio che venga a farsi visitare di nuovo forse è il caso che faccia delle lastre degli esami più approfonditi va bene dottore le dirò di prendere un appuntamento grazie di tutto e arrivederci arrivederci a lei e mi saluti sua moglie perfetto ti ringrazio ci vediamo come sempre nelle prossime puntate quando ci sarà necessità bene allora la lezione a questo punto termina ovviamente sono potreste aver incontrato durante la lezione dei termini nuovi delle frasi delle espressioni nuove che ovviamente ognuno di voi farà sue con l'ascolto e con la ripetizione mi raccomando se ci sono dei dubbi io non ho alcun problema a scrivere a rispondere alle vostre domande che farete sul blog sul canale vi chiedo di farmi un like se vi è piaciuta questa lezione di seguirmi di iscrivervi al canale intanto è gratuito come sapete e seguitemi anche sul blog ita per tutti punto blog spot punto com saremo sempre a vostra disposizione per insegnarvi un po di più di lingua italiana con dialoghi con espressioni e con tante altre novità e tante altre cose sempre a vostra disposizione su questo canale di italiano per tutti ciao